Benvenuti, cari follower! Quindi un avviso urgente. Il primo vero temporale invernale raggiungerà l'Italia tra pochi giorni con una forte ondata di freddo, gelo, pioggia e nevicate. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti condividiate questo avviso con la più ampia diffusione possibile. Numero di italiani, in modo che tutti possano prepararsi, anche per questo tempo molto difficile. Non dimenticare di incoraggiarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, come vi ho confermato nei video precedenti, gli aggiornamenti sono ancora stabili e indicano l'ingresso di un temporale molto forte sull'Italia a partire da venerdì 23 febbraio 2024 e continuerà ad interessare l'Italia per diversi giorni. Questo temporale sarà accompagnato da venti molto forti e dalla caduta di grandi quantità di neve e pioggia al nord e al centro e in misura minore al sud. La pioggia sarà accompagnata da cicchi di grandine e dal rischio di formazione di tornado improvvisi, con rischio si possono formare alluvioni, occorre quindi la massima cautela e inizialmente le zone interessate da questo fortissimo nubifragio sono tutte la Liguria-Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia-Trento, Alto Adige, Friuli-Venezia, Giulia-Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche-Umbria, Abruzzo-Lazio in misura minore, varie zone del Molise-Campania, Calabria-Basilicata, Puglia-Sicilia-Sardegna. Con abbondanti nevicate al nord, al centro e anche in zone separate del centro-sud, con il rischio che si formino forti tempeste di neve e il rischio che si formino improvvisi alluvioni, maggiori dettagli cercheremo di fornirvi più avanti e quando il periodo si avvicina di più.